qual è l'errore è creare prima il prodotto creare prima il servizio senza capire se c'è un mercato per questo prodotto servizio senza capire come noi possiamo vendere questi prodotti questi servizi ricordatevi che prima trovate il chi ok il chi è il mercato il fatto che ci sia un mercato pronto a essere monetizzato è la cosa più importante ora in america non hanno grossi problemi a capirlo perché marketing viene da market e cioè da mercato cioè prima ci deve essere un mercato in italia è già un concetto assurdo va bene marketing non c'è una traduzione in italiano fa fare il mercato marketing gestire il mercato non il mercato orionale mercato di riferimento quindi la prima cosa è il chi poi c'è il come non siamo ancora arrivati al cosa ok il come posso vendere eventuali prodotti e servizi che questo mercato di riferimento vuole acquistare l'ultima quindi facciamo un esempio sul come per esempio quante risorse economiche o quanto staff voglio voglio avere se ho un ufficio se non ce l'ho se posso espormi mediaticamente o se non posso quanta esperienza o nel marketing va bene è come dire il voglio fare un certo tipo di tasso di rendimento con gli investimenti ma come lo faccio voglio fare il 20 per cento si può fare sì ma sono capace come faccio quali prodotti prendo cioè c'è anche un come sono disposto a le necessarie competenze per avere quel tasso di rendimento nel come del marketing è più o meno la stessa cosa e cioè ho trovato un mercato a cui interessano prodotti e servizi vedremo dopo quali sono e non è assolutamente la cosa più importante di fitness c'è un mercato vedo nei forum online e anche nella vita personale ho tante richieste vedo tanto fermento attorno al fitness persone che vogliono diete vogliono dimagrire eccetera eccetera ok come faccio a raggiungere queste persone con i prodotti e servizi che poi avrò quanti soldi ho perché se ho pochi soldi per esempio non posso raggiungere tanti clienti perché costa tanto raggiungere tanti clienti infatti è molto meglio avere pochi clienti che ti pagano tanto rispetto al contrario una delle ragioni è che non hai i soldi per andarti a prendere tanti clienti sono persone che ancora non l'hanno capito in ogni caso poi c'è il cosa cosa vendo ora il cosa cambia abbastanza spesso un anno possono andare dei prodotti un altro anno vanno altri prodotti vanno dei servizi eccetera eccetera bisogna buttare fuori quasi sempre cose nuove molto molto difficile avere longevità con un monoprodotto non ci riesce quasi nessuno e non ci si deve neanche riuscire ok quindi il cosa viene per ultimo le persone mi chiedono big dimmi semplicemente cosa vendere ok vendete selfie stick perfetto andate tornate quando siete milionari giusto adesso vi ho dato la soluzione vero no perché come diavolo lo vendiamo ea chi ma bene questo è come quando le persone dicono perché io sto facendo un corso di copywriting così poi divento ricco e so cosa scrivere sì tu saprai cosa scrivere ma a chi ti stai rivolgendo e cosa stai veicolando col tuo copy se ti mancano queste due cose sfido io che quando ti metti a scrivere non sai cosa scrivere perché non sai a chi stai parlando e di che cosa e come non sai niente ok quindi è possibile che il tuo prodotto il tuo servizio semplicemente non stia vendendo perché affrontiamo le le prime le prime casistica non c'è un mercato e cioè hai avuto un'idea questo è tremendamente comune per gli start appare ignorante chi sono gli start appare sono dei nerd che hanno delle idee trovano addirittura delle persone che li finanzi già che bella idea to dei soldi nessuno pensa al piano di rientro gli investimenti ci sono delle idee questi continuano a prendersi dei milioni non tutti insomma mondo delle start up che oltretutto non significa niente start up sarebbe un verbo ma non fatemi dilungare in questo video va bene hanno queste idee ne parlano tirano su dei milioni a volte a chi va bene o male perché poi ripeto quei milioni vengono bruciati in idee che non sanno come monetizzare e quindi una persona ha un'idea di un prodotto di un servizio di un'azienda la crea ma non la prima ragione per la quale le start up falliscono è non c'è il mercato la seconda è ho finito il cash o il contrario tutte queste due provengono dal fatto che uno non è in grado di monetizzare un mercato perché il mercato addirittura non c'è mi sembra che sia il primo c'era una statistica il primo errore è ho creato un prodotto per un mercato che non c'è che è l'ignoranza massima del marketing come fai a fare marketing prima o dopo lo dovrei fare se non hai un mercato non si può fare siete d'accordo ok oppure ho finito il cash e cioè non riesco a marginare e a guadagnare soldi abbastanza veloci abbastanza spesso da avere una disproporzione positiva rispetto a quello che spendo per acquisire i clienti banalmente se spendo 10 per acquisire un cliente questo cliente mi paga 5 brucio il cash e vado in bancarotta va bene fare dei prodotti e dei servizi come piacciono a voi e non come piacciono al mercato il fatto che non ci sia un mercato è che sono proposti in un modo che il mercato non interessa proporre questi servizi e questi prodotti in un modo per il quale o con il quale il mercato non interessa come si dice in italiano ok traducetelo in italiano non so come diavolo si dica questo è abbastanza comune con persone fortemente tecniche nerd che credono di avere la soluzione magari ce l'hanno anche ma al mercato non piace ricordatevi che dovete vendere al mercato quello che il mercato vuole molto difficile per esempio io sono più o meno in quel business vendere ciò che gli serve c'è bisogno di fare una forte componente educativa dicendo mercato lo so che nel mio caso lo so che voi volete il tastino magico del metodo di guadagno del 6% al mese ma non esiste sono truffe dovete capire come si fa business capire come si fa marketing creare un'azienda anche piccola potete essere liberi professionisti però controllare il processo capire come si fa marketing come si serve come si monetizza come si spreme un mercato e far dai soldi eh ma io però in realtà volevo no perché io volevo una roba un po più semplice con un tasto lo so che la vuoi ma non esiste ok io faccio la big look international la mia azienda che è leader nel settore dell'online marketing si occupa di questo ma più difficile noi ce la rendiamo più difficile buttassimo fuori ponzi truffe cripto eccetera saremo tutti molti più ricchi non ci lamentiamo ok siamo leader di mercato però ok capite quello che sto dicendo quindi bisogna dare al mercato quello che vuole se si dà al mercato quello che al mercato serve è molto 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 più in salita di solito si fallisce quindi perché il tuo prodotto il tuo servizio non vende perché non c'è un mercato e se non c'è un mercato ecco questo vorrei chiarirlo non è invendibile il prodotto alcuni provano ad aggiustarlo con i social media alcuni provano ad aggiustarlo col copio alcuni vogliono venire in consulenza con me è inutile risparmiate i vostri soldi anche perché costo parecchio e non è detto neanche che voi anzi più probabile che io con voi non ci parli non è se non c'è nessuno a cui vendere un prodotto non si può vendere se non c'è un mercato di riferimento è inutile ora dove si può andare a lavorare dove potete avere un margine di manovra è quando voi state facendo un'offerta e state proponendo questo prodotto servizio a un mercato che esiste in un modo ambiguo in un modo strano in un modo il mercato non lo capisce vedono l'offerta ma si fa un fumoso ok quindi va semplicemente aggiustata l'offerta resa più irresistibile seducente chiara focalizzata larga magari invece troppo stretta quindi uno dice no non è per me e non include nessuno questi sono i fenomeni vabbè lasciamo perdere si posiziona in un modo così focalizzato non ci sono clienti quindi c'è poi la manca rotta perché è troppo però va bene troppo stretto troppo largo e quindi lì si può andare a lavorare quindi se avete voi che mi guardate prodotti e servizi che non vendono dovete prima assicurarvi che ci sia un mercato ora molti chiedono come faccio a sapere che c'è un mercato ci sono x modi di capire se c'è un mercato senza entrare nelle supercazze della ricerca di mercato termine la mia esperienza vuol dire poco ok ci sono sicuramente dei tools per guardare quanto è il volume delle keyword che viene cercato mensilmente ma voglio dire ci sono cioè per capire che ad oggi c'è un mercato nel mondo del fitness da casa nessuno ha fatto una ricerca di mercato però è evidente perché i social sono invasi le persone parlano di fitness a casa le palestre stanno chiudendo è un esempio senza fare una ricerca di mercato con chissà quali aziende di consulenza ecco che abbiamo un'idea piuttosto precisa forum che parlano di una certa cosa presenza assolutamente di altri player uno degli errori da non fare è dire ah non c'è nessuno in questo campo che bello molto molto difficile trovare un campo profittevole in cui non ci sono player se trovate un campo con alta domanda bassa competizione molto molto bello la criticità che non sapete cosa succede quando la competizione subentrerà perché la competizione subentrerà ok quindi bisogna aggiustare le offerte bisogna aggiustare il meccanismo l'ecosistema di marketing che vende tale offerte al mercato di riferimento altrimenti sarà veramente difficile non vi incapponite un altro consiglio che posso darvi sul prodotto molte persone scambiano l'azienda per il prodotto ok l'azienda non è il prodotto il mercato è ciò sul quale voi vi focalizzate perché il mercato ha voglia mettiamo che siate nel nicchia dell'entertainment del divertimento ok le persone si vogliono divertire come fanno le persone a divertirsi magari quest'anno il mercato vuole più andare in discoteca e voi gli proponete una discoteca è un esempio ma ci capiamo poi invece nell'anno prossimo vogliono andare al ristorante e fare l'happy hour rendo edotti del fatto che aperitivo apericena tutti questi concetti alcuni anni fa non c'erano sono stati creati perché c'era in qualche modo una richiesta un buco di mercato che le persone sono andati a soddisfare ok quindi il mercato è la cosa più importante la nostra abilità cioè il come marketizzare cioè come marketing vuol dire monetizzare un mercato di riferimento che vuole prodotti e servizi e noi lucriamo vendendogli ok questo vuol dire ma non ci sono altre definizioni sono tutte supercazze del resto perché sono sono tutte definizioni anche quelle universitarie per dire o quelle teoriche che non fanno capire che bisogna fare dei soldi vendendo qualcosa a qualcuno adesso tutto ciò che si distacca da questa visione qua sono cose molto molto teoriche che di massima non ci aiutano non ci aiutano non ci aiutano non ci aiutano